Circa 500 gli interventi eseguiti nelle scuole del Nord Sardegna nel periodo di chiusura a causa del lockdown dalla Multis, l'azienda in house della provincia di Sassari, per operazioni di manutenzione con interventi edili agli impianti elettrici e idrico-sanitari. Un lavoro straordinario che si aggiunge ai 62.000 interventi eseguiti nel corso dell'anno 2019-2020. Le azioni sono tutte gestite attraverso una innovativa piattaforma online che, primo caso in Sardegna, cura il patrimonio immobiliare in modo completamente digitalizzato e interattivo con la piattaforma Gestamb. Il 70% degli interventi è programmato direttamente dalla Multis, il restante 30% è rappresentato dagli interventi su richiesta del dirigente scolastico, del responsabile dell'ufficio provinciale che entrano nella piattaforma, segnalano il guasto o il problema da risolvere e nel giro di poche ore interviene una squadra della Multis. Lo stesso meccanismo viene adottato anche per i servizi ambientali, grazie alla piattaforma digitale è infatti possibile gestire direttamente le richieste di disinfestazione, deratizzazione e sanificazione, presentata da circa 300 utenti censiti tra enti comuni e istituti scolastici. Il prossimo passo sarà rappresentato dal varo di una piattaforma analoga per la gestione della viabilità provinciale.